Leone, indovina chi è lo zio pleacone! Dopo un pranzo abbondante, è giunto il momento di una passeggiata con la loro cagnolina Gabriella per smaltire il cibo in eccesso. Questi momenti di gioia e convivialità dimostrano quanto sia forte il legame tra le due famiglie. La complicità tra Ricky e i membri della famiglia Ferragni emerge attraverso le battute e le attività condivise, creando ricordi indelebili per tutti. La serenità di questo inizio d'anno si riflette nell'affetto e nell'armonia che permeano queste occasioni speciali. Grazie a tutti!